Ben tornati alle pillole della finanza in soldoni. Oggi parliamo di piattaforme online per il risparmio gestito. Lo spunto per questa pillola ci viene da una conversazione avuta con un ascoltatore del podcast della finanza in soldoni. Peraltro vi ricordo che esiste un podcast della finanza in soldoni oltre al libro e quindi se non siete ancora iscritti ascoltate il podcast che è gratuito. E dunque l'ascoltatore mi diceva abbiamo imparato l'importanza di risparmiare ogni mese anche delle piccole somme. Abbiamo imparato l'utilità e la convenienza di strumenti come gli etf. Se però la mia banca prende 15 euro per eseguito per ogni etf come faccio a risparmiare 100 euro al mese? Allora la risposta più semplice sarebbe cambiamo la banca che carica 15 euro di commissioni. Però è abbastanza noto che molti risparmiatori per una serie di motivi che non stiamo qui a specificare preferiscono mantenere conti correnti di tipo diciamo tradizionale anche a costo di pagare delle commissioni abbastanza elevate. E dunque oggi invece parliamo delle piattaforme online per il risparmio gestito che consentono anche a chi mantiene un conto corrente di tipo tradizionale essenzialmente di accedere ad un ventaglio di opportunità molto interessante. Queste piattaforme online sostanzialmente ovviamente tra l'altro parlavamo di appunto conversazione con una persona che ascolta il podcast vi ricordo l'indirizzo email mfamularoblog.com al quale potete scrivere per segnalare spunti, suggerimenti, idee per i video o per i podcast e niente quindi parleremo di 5 piattaforme online e distinguendole essenzialmente in due categorie dei marketplace come online sim fanstore.it e fondi online.it e due robot visor Manifarb ed Euclidea La principale differenza tra queste due tipologie di piattaforme risiede nel fatto che mentre i marketplace online essenzialmente vi lasciano la possibilità di scegliere i prodotti da acquistare quindi sostanzialmente voi a costo zero trasferite la liquidità su queste piattaforme e poi potete selezionare un ampio ventaglio di fondi comuni di investimento tipicamente i marketplace non hanno una remunerazione esplicita ma ottengono una retrocessione delle commissioni da parte dei fondi che vengono acquistati quindi questo in realtà implica che tipicamente questi fondi consentono l'acquisto di fondi comuni di investimento e non di ETF che sono leggermente più costosi invece i robot visor come Manifarb ed Euclidea prevedono una remunerazione esplicita in genere nell'ordine di grandezza di qualche decina di punti base quindi sempre inferiore all'1% e a questi ai quali bisogna aggiungere anche il costo poi delle commissioni degli strumenti acquistati che però in larga misura sono ETF che quindi costano di meno dunque la principale differenza è che nei marketplace voi trasferite la liquidità e scegliete voi quali fondi acquistare i robot visor essenzialmente invece vi fanno e appunto questo è un valore aggiunto vi realizzano l'asset allocation quindi costruiscono loro i vostri portafogli e li ribilanciano a seguito dell'andamento dei mercati e costruiscono i portafogli in base ad una profilazione legata alla compilazione del questionario Mifid cioè voi rispondete a delle domande loro capiscono qual è la vostra propensione al rischio e dopodiché potete diciamo in qualche modo vi viene costruito il portafoglio sulla base delle vostre esigenze e preferenze un elemento da tenere presente è che tutte queste piattaforme che ho menzionato sono gestite da intermediari regolati della Repubblica Italiana quindi presentano requisiti di sicurezza non inferiori a quelli della banca che avete sotto casa e talvolta requisiti di professionalità oserei dire anche superiori perché sono stati tipicamente fondati da persone che hanno diversi decenni di esperienza della gestione dei fondi comuni e quindi direi essenzialmente questo diciamo è un pochino il quadro se la vostra banca costa tanto o non vi offre soluzioni soddisfacenti potete sottoscrivere queste piattaforme online che non presentano costi di ingresso o di uscita ripeto vi lasciano una maggiore libertà per quanto riguarda i marketplace e una minore per quanto riguarda i RoboAdvisor però i RoboAdvisor a fronte anche del costo esplicito vi offrono il servizio essenzialmente di costruzione di questi portafogli ora uno dei marketplace ad esempio OnlineSIM ha internamente anche un servizio di RoboAdvisor e comunque tutti gli altri vi offrono un supporto per concludere dunque questa sorta di rivoluzione democratica della finanza che un po' ha caratterizzato gli ultimi decenni e di cui queste piattaforme online sono un'espressione vi consente di accedere a dei servizi che prima erano a pannaggio solo dei grandi patrimoni pensate semplicemente che la consulenza che ricevete dai RoboAdvisor era qualcosa che prima era accordata solamente ai gestori di grandi patrimoni e per fare una piccola differenza fra i due quindi qualche specifica in più tra Manifarm e Euclidea essenzialmente Manifarm vi consente di costruire diversi portafogli basati su propensione a rischio e su durata temporale nei quali potete incanalare chiaramente i vostri risparmi e vi offre anche un servizio di fondo pensione che chiaramente gode dei benefici fiscali di questo strumento Euclidea invece lavora più come una gestione patrimoniale quindi essenzialmente costruisce i portafogli sulla base del vostro profilo e recentemente ha attivato un servizio anche focalizzato sulla gestione della liquidità quindi una gestione patrimoniale che investe in strumenti di mercato monetario che è molto interessante perché sostanzialmente automatizza quello che è la gestione in ETF dunque se volete investire 100 euro al mese e la vostra banca ve lo rende antieconomico potete sottoscrivere queste piattaforme online trovate i link nei commenti al video vi ricordo che la finanza in soldoni oltre a questa serie video è un podcast che trovate su tutte le principali piattaforme è un libro che potete acquistare, richiedere in libreria o acquistare sulle principali piattaforme online esiste una newsletter di cui trovate il link al video con la quale potete ricevere aggiornamenti e da quest'anno è anche collegata a un servizio che io chiamo di financial coach ossia una serie di confronti personalizzati che non mirano a prestare consulenza finanziaria ma a supportare le proprie scelte di comprensione delle proprie esigenze e di pianificazione della propria gestione finanziaria il servizio è personalizzato e potete accedere scrivendo all'indirizzo email mfamularoblog.com come sapete questa piattaforma di educazione finanziaria è assolutamente libera e priva di sponsor quindi se volete supportarla ricordatevi di ascoltare i podcast di guardare i video, di iscrivervi a questo canale youtube e di segnalarlo ai vostri amici arrivederci